Musica Buonasera e benvenuti al diario di Papa Francesco Benvenuta sorella Anna Bosetti Del suore di Gesù Buon Pastore Padre Marco Staffolani Padre passionista Oggi è la 28esima giornata mondiale della vita consacrata e noi abbiamo cominciato prima la nostra trasmissione perché tra poco seguiremo in diretta la messa presieduta da Papa Francesco proprio in occasione di questa giornata giornata che dicevamo con l'espressione vita consacrata comprende un mondo con tante differenze e tanti carismi e tante esperienze ci sono però alcuni vocaboli che vorrei chiarire insieme a te per esempio tu sei della congregazione della passione di Gesù Cristo sei un passionista un francescano non è della congregazione dei francescani ma è dell'ordine dei francescani terzo quindi voglio capire la differenza tra ordine, congregazione e un'altra macro esperienza poi ce ne sono anche altre ma noi possiamo dire tutte l'altra macro esperienza è quella degli istituti di vita secolare cominciamo prima di tutti ordini perché gli ordini sono le strutture il mettere insieme persone che vivano attraverso una regola e l'ordine dà questa presenza all'interno della Chiesa da tantissimo tempo e dunque quello che si struttura in ordine è un'esperienza plurisecolare e questa esperienza la troviamo soprattutto fino al tempo del Medioevo e quindi c'è tutta la vita monastica l'esperienza per esempio dei monaci del deserto c'è tutta l'esperienza degli ordini che si costituiscono per esempio gli ordini mendicanti che tu hai citato i francescani, i domenicani e tutto questo è diciamo l'espressione della vita consacrata in questi periodi storici iniziali dopodiché abbiamo congregazioni quindi quelli che arrivano poi nell'età moderna si chiamano congregazioni esatto man mano che la società si sviluppa però la differenza è solo storica allora gli ordini sono fondazionali in qualche modo perché danno la struttura della vita consacrata che è basata soprattutto per la vita religiosa su tre voti povertà, castità e obbedienza questi li troviamo in qualche modo soprattutto espressi per esempio dai francescani dai domenicani tutte esperienze che vedono in questi tre capisaldi quelli che vengono chiamati consigli evangelici cioè chi vuole vivere la vita evangelica in pienezza trova che distaccandosi dal mondo è possibile vivere ritirati questi tre voti poi c'è un'esperienza che si specifica ulteriormente che sono le congregazioni possiamo inquadrarle in un tempo dal 1400-1500 fino ai giorni nostri la congregazione prende un aspetto particolare di servizio alla chiesa e lo fa proprio ma si basa sull'esperienza che hanno già fatto gli ordini per esempio la mia congregazione di passionisti fa il religioso che vuole entrare nella congregazione passionista fa come per esempio i francescani i domenicani i voti che sono povertà, castità e obbedienza quelli che erano stati brevettati dagli ordini brevettati da da coloro che sono negli ordini che vi hanno preceduto e poi ne specificano uno in particolare che per esempio per il mio istituto è quello di fare memoria della passione di Gesù Cristo cioè la vita di preghiera ha una connotazione questo attiene al vostro carisma si può dire così è corretto con la parola carisma si identifica diciamo il centro della spiritualità della congregazione questa giornata abbiamo prima raccontato un po' così l'origine però dietro l'intuizione di Giovanni Paolo II dietro questo ringraziamento per questo dono che è la vita consacrata c'è anche una questione contingente che è il calo delle vocazioni e Papa Francesco è tornato spesso in queste giornate a parlarne e sempre spesso ha sottolineato come non bisogna avere nostalgia del passato bisogna sapersi mettere in gioco saper riformulare l'esperienza della vita consacrata nell'oggi secondo te che cosa va superato quali porte vanno aperte nell'esperienza della vita consacrata innanzitutto la vita consacrata è una chiamata specifica quindi il numero di coloro che aderiscono quindi la popolarità secondo il mondo è sempre un fattore molto temporaneo sempre una tentazione di dire siamo tanti siamo pochi quindi quella o di essere tranquilli e sicuri perché tanti hanno fatto la nostra scelta oppure pochi chissà che ci aiuterà quando saremo vecchi e quindi saremo anche una realtà poco significativa il discorso invece è più profondo e nel continuando quello che diceva sorella per quanto riguarda l'obbedienza è nella misura in cui il fatto di sapere di essere stati scelti da un altro e di essere stati chiamati da Gesù dal Padre e poi nella forza dello Spirito Santo che attualizza nei tempi correnti capire che cosa vuole Dio oggi per la vita consacrata e allora quello che si dovrebbe guardare non è tanto il numero ma quanto la qualità di ciò che si vive e tu che cosa hai capito alla luce della tua esperienza che cosa la vita consacrata permette che cosa non vuole allora nella vita consacrata si guarda in qualche modo in un orizzonte che non è possibile guardare con gli occhi diciamo dell'aico normale che non ha un cammino non ha un'esperienza della Chiesa anche tramite gli ordini e le congregazioni di cui dicevamo prima vivere su questa terra se non c'è durante la giornata un periodo di ritirarsi di preghiera di ascolto della parola di Dio di celebrazione anche liturgica quindi sostentarsi con il corpo e sangue del Signore Gesù se non c'è questa vita in qualche modo che ha una dimensione mistica si rischia che le decisioni della persona le azioni le idee siano invece semplicemente orizzontali che riguardino per esempio oggi potremmo dire l'economia i consumi la tecnologia quindi la vita consacrata deve essere una vita sempre più in preghiera dice si deve essere sempre in preghiera non è che una volta ce n'era di più una volta di meno c'è un tempo congruo durante la giornata in cui la persona si raduna magari da sola se è un istituto di vita consacrata che vive nel mondo diciamo così oppure una congregazione in ordine ha un tempo comunitario anche di pregare e in questo tempo Dio fa capire alla persona per questo tempo che sta in cui lui sta vivendo che cosa c'è bisogno per sé e anche per gli altri secondo poi il carisma la regola specifica che l'istituto la congregazione l'ordinea passiamo a una domanda deciso che cosa c'è dietro questa vita donata è personale la faccio tutte e due uguale per me è stato il culmine di un anno di cammino ho incontrato un passionista e la mia conoscenza della vita religiosa della vita consacrata se vogliamo usare il termine più largo era molto annacquata cioè pensavo che erano persone che si ritirassero dietro le mura perché avessero paura del mondo oppure non avessero la capacità per esempio di sposarsi tu eri ingegnere mi ricordo bene sì facendo un percorso diciamo di vita di un gruppo cristiano di preiera poi ho incontrato questo padre passionista che mi ha fatto la proposta di ritirarmi per diversi weekend nel corso di un anno per fare proprio esperienza di weekend di preiera vissuti proprio con una comunità di frati passionisti e la mia decisione diciamo di provare ad acchiappare quel tesoro prezioso è stata durante un venerdì santo alla fine diciamo di quell'anno di incontri e lì ho sentito forte che la mia vita doveva fare una drastica manovra di virata Sorana ce lo racconterà dopo perché adesso sta per cominciare la messa e le immagini che vedete sono in diretta da San Pietro e dunque lasciamo la linea alla celebrazione grazie a tutti